Passare al casello autostradale senza fermarsi grazie ad un'app gratuita ricaricabile tramite una carta di credito, di debito o prepagata è il nuovo servizio dedicato agli automobilisti Targa Go al via sulla tangenziale di Napoli per abbattere code ed emissioni inquinanti al casello. Il tangenziale di Napoli diventa protagonista nell'innovazione tecnologica. Questa nuova app semplifica le operazioni di pedaggio consentendo anche il passaggio libero ai caselli semplicemente scaricando un'app dal telefonino. Questa modalità innovativa di pagamento del pedaggio attraverso la lettura della targa e senza alcun dispositivo a bordo è sviluppata da Autostrade per l'Italia ed andrà a sostituire gradualmente il tradizionale sistema ricaricabile un servizio sperimentale che si avvia sulla tangenziale di Napoli in accordo col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sarà gestito in questa prima fase dalla società Autostrade con la supervisione dell'Università Federico II. Questo fa parte di questo grande piano di innovazione che si sta realizzando e che consentirà di avere un'infrastruttura più sostenibile, più sicura e anche che cerca di impattare meno su quella che è la viabilità cittadina. Per usare questo nuovo servizio basterà scaricare l'app o registrarsi sul sito targa.go.it e procedere con l'identificazione della targa. È un sistema veloce e gratuito che in questa fase esclude motoveicoli e mezzi pesanti. Il sistema è applicato per tutti i veicoli di classe 2 sulla tangenziale. Gli autoveicoli, i minibus e gli autocarri a due assi. Ovviamente se la sperimentazione dà esito positivo c'è la possibilità di poterlo estendere anche alle altre classi. Gli autoveicoli, i minibus e gli autocarri a due assi.